Ubaldo Pantani, buonasera! Sera, buonasera a te. Come stai? Bene, noi ci siamo visti tipo 15 anni fa. Ci siamo visti un po' di anni fa, però siamo uguali, devo dire, la verità. Più o meno, sì, più o meno, sì. Lo spirito è lo stesso. Lo spirito è lo stesso. A proposito di spirito, tu come ti senti? Più un comico o un trasformista? Allora, sono due facce della stessa medaglia. No, il trasformismo fa parte del mio lavoro. Fa parte del lavoro dell'imitatore, che fa parte del lavoro del comico, che fa parte del lavoro dell'attore. Cioè, scatole cinesi, però. Ascolta Ubaldo, allora, serate come queste, bellissime serate, aiutano per la beneficenza, con tanti artisti, tanti personaggi? Beh, sì, io, insomma, è il terzo anno di presenza a questa iniziativa, sono contento di dare il mio piccolo contributo, così come conterò di darlo appunto stasera, con l'asta, poi domani con lo spettacolo, insomma, si fa quel che si può nel senso buono. Perché, come si dice, far bene e felicità aiuta al cuore, no? Fa bene al cuore. Aiuta al cuore, assolutamente, per chi riceve e anche per chi fa. Grazie mille e buonasera. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.